Prima che inizi il video ci tengo a dirvi che l'episodio finale di yokai watch ovvero quello contro gattiva su spiritossi è stato posticipato a non so quando dato che ho intenzione di farvi vedere tutti quanti gli altri boss opzionabili che ci sono in yokai watch 2 e anche come prendere alcuni yokai che servono sia ad attivare boss sia ad attivare altre quest sia a allungare il gioco e riuscire magari a fare un cento per cento perché è quello che vorrei riuscire a fare con questo yokai watch 2 Ciao a tutti kuji ben ritornati dal vostro andrò in canadone in questo nuovo video di slot kai rare yokai hunt davvero non pensavo di riuscirci ma alla fine eccolo ho preso anche arachnia lo vedrete a fine video detto questo ci vediamo in un prossimo video bye bye scontro serpe scontro serpe prestami io ho prestami ah Contecario Luchaño Tremera Eternia Gello coda Scaragone Leccatino Carmino Leccatino 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 Leccatino